Buon mercoledì a tutti ragazze e ragazze, io sono Angela e ricomi ritornata in questo nuovo video. Cosa sta succedendo ai programmi di Maria De Filippi? Ebbene da domani, 18 marzo, cambia il palinfesto tv che riguarda proprio amici e uomini e donne. Infatti le persone che si collegheranno alle 14.45 per poter seguire, come dico in seto, i programmi di Maria resteranno delusi perché non ci sarà nessun programma di lei nella fascia pomeridiana del pomeriggio. Nel dettaglio ragazzi, il prossimo giovedì, cioè domani, sarà celebrata la prima giornata nazionale delle vittime di Covid e per l'occasione il palinfesto di Canale 5 sarà modificato. Pare che Mediaset abbia chiesto a Maria De Filippi di poter introdurre nei suoi programmi qualche flash che ricordasse proprio il ricordo di tutte queste vittime del Covid, non solo in Italia ma di tutto il mondo. Però a tale richiesta, grazie al portale Davide Di Maggio, possiamo dirvi che non è stata accettata perché riprodurre nuovamente le puntate che erano già pronte per la messa in onda non si poteva fare. Per questo motivo, Maria De Filippi ha accettato di non andare in onda in questo giorno. Per questo vi aggiorno che da domani, dalle 14 in 10, andrà in onda una puntata speciale di Una Vita, quindi la sop Acacias 38 prenderà tutto all'ora di Uomini e Donne e in più il daytime di Amici, fino alle 16 e 20. Poi la linea passerà al daytime dell'Isola dei Famosi e successivamente, come al solito, ci sarà spazio per la nostra amatissima sop'opera dei Trimmer Leali del Sogno. Dal 19 marzo, ossia venerdì, tutto dovrebbe ritornare alla normalità. Scrivimi tu che cosa ne pensi. Io come sempre ti invito, se ancora non l'hai fatto, a iscriverti al mio canale, lasciami un like di supporto se il video vi è piaciuto e attiva la campanella, così non ti perderai questo ma nessun altro prossimo video. Buona giornata ragazzi, buon mercoledì, da Angela, da Tutto dal Web.